Matteo Tomei, i portieri, e tu sei un portiere, hanno sempre le spalle larghe perché sono l'estremo baluardo di ogni squadra, quindi sicuramente questa è una domanda che non ti caricherà più di tanto di responsabilità, però sappiamo che il tecnico nuovo Bruno Tedino ti ha fortemente voluto. Sì, grazie a Dio ho ricevuto la telefonata del mister, che io credo che quando ti chiamo un allenatore sia quasi impossibile rifiutare. Ci ho messo poco perché mi ha cercato, ci siamo ritrovati e quindi credo che sia motivo di orgoglio per ogni giocatore, non solo per me, quando ti chiama l'allenatore è sempre quasi obbligatorio rispondere alla chiamata e cercare di contraccambiare la fiducia che ti sta dando. Un giudizio sul tecnico Bruno Tedino? Sì, ma un intenditore di calcio, io lo soprannomino per me, per una cosa mia, nell'enciclopedia di calcio, perché il mister veramente conosce tutto di tutti, è un allenatore con grande entusiasmo, grande voglia di vincere, grande voglia di lavorare, un trascinatore, quindi non lo scopro di certo io, non lo scopriamo di certo noi, è un allenatore che merita, come è stato anche l'anno scorso, palcoscenici importanti e questo è un palcoscenico importante. Impossibile rifiutare la chiamata di un tecnico, lo hai detto prima, la piazza di Teramo, che idea hai di questa società, anche se è nuovissima? Beh, credo che, appunto, essendo una società nuova, credo che è sotto gli occhi di tutti che sta facendo qualcosa di, diciamo, impensabile, è un, diciamo, si conta nelle dita di una mano i presidenti che investono così tanto per una squadra di calcio, che comprono uno stadio, che hanno una programmazione a lungo termine per fare qualcosa di importante, per una città che è sempre stata, voi lo sapete meglio di me, amante del calcio e vogliosa di grandi soddisfazioni, quindi saremo noi, cercheremo, no? Saremo, cercheremo, perché non è mai semplice di dare tanta fiducia e di provare a contraccambiare questa fiducia che la società ci ha dato. Matteo, con gli altri compagni di reparto, gli altri portieri del Teramo, sana concorrenza? Sì, come dicevo prima, ci sono, io credo che nel calcio la regola vuole che ci siano delle gerarchie, poi dopo le gerarchie le deciderà l'allenatore e quindi, di conseguenza, poi dopo saremo noi, cercare di mantenercele strette e di tenercele strette. Sicuramente c'è una grande amicizia a livello lavorativo che ci lega, quindi sì, poi dopo, ripeto, sarà l'allenatore a decidere quello che sarà il meglio per il Teramo Calcio.